Susie! Non ti ho vista alle audizioni per le cheerleader! Per quanto ancora permetterai che ti maltrattino! Make me believe that what I need, what a dream is not fantasy, breathe inside of me sometimes, people try to take away... Devi essere forte, Susie! No, non se ne parla io un momento! Dai, Susie, vieni! Tu pensi davvero di avere delle possibilità? E adesso qual è il problema? Ti è sempre piaciuto quello che cucino? Nessuno vuol vedere cantare una come me! Perché? Perché sono grassa! Voglio mettermi in forma. Puoi darmi una mano con gli esercizi? Non è importante se sei magra o grassa. È molto più importante come ti senti dentro. Sei pronta? Mai stata così pronta in tutta la mia vita. Quale è il momento? Non è l'unico. Questa è l'unico. Questa è un cura di tutto. Per quanto riguarda in tutta la mia vita. Non è lì. Questa è l'unico. è l'unico. Questa è l'unico. Ho! Questa è l'unico. Questa è la prima, è la prima. Questa è la prima che si chiama. E' fantastica! Per me è perfetta! La teniamo!